In questa puntata ci occupiamo del pensiero metafisico di Tommaso d'Aquino. Ricordo che la metafisica è una dottrina filosofica che cerca di spiegare le cause prime della realtà, prescindendo da qualsiasi dato dell'esperienza. Tommaso parla di metafisica nell'opuscolo dell'ente e dell'essenza, in cui cercava di spiegare in modo chiaro e non fuorviante alcuni termini filosofici, tra i quali soprattutto i concetti di ente e di essenza, due termini che abbiamo già visto essere stati studiati da diversi filosofi greci e anche arabi. Secondo Tommaso, ente ed essenza sono le prime cose che l'intelletto concepisce. L'ente è ciò che è e può essere di due tipi, reale o logico. Reale è ciò che c'è nella realtà e può essere suddiviso nelle dieci categorie aristoteliche. Logico è invece ciò che viene espresso attraverso una proposizione affermativa, anche se questa non pone alcun che nella realtà. Se io dico la cecità è nell'occhio, in realtà la cecità non c'è, ma esiste degli occhi che non vedono. Per quanto riguarda il termine essenza, si può parlare di essenza solo in riferimento agli enti reali, perché l'essenza è ciò che una cosa è in quanto tale, ossia è la sua quiditas e che risponde alla domanda quid est. Che cos'è? Dentro questa essenza, che Tommaso denomina anche natura, non c'è solo la forma, ma anche la materia, perché dentro l'essenza c'è tutto ciò che definisce quella cosa, e una cosa può essere definita sia nella sua forma, ma anche nella sua materia. Se prendiamo l'esempio dell'uomo, la sua essenza, che è quella di essere un animale ragionevole, comprende la forma, ossia la sua ragionevolezza, ma anche la sua materia, ossia l'animalità. L'essenza va distinta dall'essere, esse, che è l'atto dell'essere, actus essendi, ossia l'esistenza. Quindi l'essenza è ciò che viene espresso dalla definizione, e comprende la forma e la materia, mentre l'esistenza l'atto per cui qualcosa esiste realmente. Per quanto riguarda gli esseri finiti, essenza ed esistenza hanno tra loro un rapporto di potenza e atto. Potenza è l'essenza e atto è l'esistenza. E qui arriviamo al punto cruciale. Se questi esseri finiti vivono, ma non danno la vita, non sono la vita, da chi l'hanno ricevuta, la vita? Ecco che qui si inserisce Dio, che è la vita e che è la causa prima di tutte le cose. Per esempio, nel libro dell'Esodo, un libro della Bibbia, Dio si definisce così, io sono colui che sono, ego sum qui sum, ed è quindi l'essere per eccellenza, colui che crea tutto. Quindi l'essere può essere di due tipi, Dio, che è l'ente che crea tutto, e dove essenza ed esistenza coincidono, mentre le creature sono enti che ricevono l'essere da Dio. C'è quindi una proporzione importante. Dio sta alle creature come il necessario, ciò che necessariamente non può e non essere, sta al contingente, ciò che può essere o non essere. La creazione delle creature del mondo significa aggiungere l'esistenza all'essenza, cioè rendere l'esistente essenza. Oltre all'uomo e alle cose del mondo, anche gli angeli sono sostanze finite, però sono solo forma e non materia, ma comunque sono sia essenza sia esistenza, e quindi anche loro sono una creazione divina. Gli esseri finiti, secondo la filosofia tomistica, ossia di Tommaso d'Aquino, partecipano all'essere, ne prendono parte, e il concetto di partecipazione è un concetto importante, perché gli esseri finiti sono stati creati da Dio, e proprio in virtù di questo partecipano all'essere anche se in modo parziale, visto che l'essere totale e perfetto è solo Dio. Quindi Dio è l'essere per essenza, mentre le creature sono essere per partecipazione. Importante è sottolineare che le creature sono simili a Dio, ma Dio non è simile alle creature. C'è una differenza sostanziale dettata dal fatto che Dio è essenza ed esistenza insieme, mentre le creature ricevono l'essere da Dio. Quindi il rapporto tra Dio infinito e le creature finite è un rapporto analogico, perché non è né univoco, perché non sono totalmente simili, né equivoco, perché non sono totalmente diversi. Sono quindi simili ma diversi, e questo fu importante da sottolineare per Tommaso, visto che nella sua epoca c'erano diverse forme di panteismo, ossia di credenza in più dei, e la sua filosofia sottolinea la trascendenza di Dio rispetto al mondo. Quindi, secondo la filosofia atomistica, tra essenza ed esistenza, il primato ce l'ha l'esistenza, perché l'esistenza, ossia l'essere, rappresenta la perfezione massima. Un altro aspetto importante della metafisica è quello legato ai trascendentali, che vanno distinti dalle categorie. Le categorie sono quegli aspetti distintivi di quello specifico essere, come ad esempio la qualità, la quantità o qualcos'altro, mentre i trascendentali sono i caratteri che qualificano l'essere, trascendendo appunto dalle categorie. Secondo Tommaso, i trascendentali sono sostanzialmente tre, unum, uno, verum, vero, e bonum, bene. Quindi, secondo la filosofia atomistica, ogni ente è uno, unico nel suo genere, può essere simile a qualche altro ente, ma mai uguale, vero, perché ogni ente corrisponde all'intelletto divino di chi lo ha creato, buono, perché, come dice Tommaso, ogni ente, in quanto ente, è in atto e in qualche modo perfetto. Ora il perfetto ha ragioni di appetibile e di bene. Verità e bontà ricoprono quindi un ruolo fondamentale nella filosofia atomistica, tant'è che la sua filosofia è stata considerata una delle forme più radicali di ottimismo metafisico. Ecco che cosa ha imparato in questa video-lezione. Metafisica è la dottrina filosofica che cerca di spiegare le cause prime della realtà, prescindendo da qualsiasi dato dell'esperienza. L'ente è ciò che è, mentre l'essenza è ciò che una cosa è in quanto tale, ossia la sua quiditas, che risponde alla domanda quid est. Che cos'è? L'essenza è ciò che viene espresso dalla definizione forma più materia, ed è potenza. L'esistenza, invece, è l'atto per cui qualcosa esiste realmente, ed è atto, appunto. Dio è l'essere per essenza, mentre le creature sono essere per partecipazione. Tra essenza ed esistenza, il primato ce l'ha l'esistenza. Ti aspetto nella prossima puntata per parlare delle cinque vie per dimostrare l'esistenza di Dio.